ciao sto preparando una serie di video ben organizzati e finalizzati ad acquisire le principali tecniche di calcolo si parte dal calcolo numerico per passare a quello letterale quindi i radicali e varie tipologie di equazioni e disequazioni puoi trovare il link alla play lista in descrizione del video o nei commenti in questo video vediamo un problemino di matematica che vi confesso ha una scarsa utilità nell'ambito delle scienze applicate ma può essere un simpatico rompicapo abbiamo qui un'equazione di secondo grado 3x alla seconda più 5x meno 2 uguale a 0 che ha sempre due soluzioni nell'insieme dei numeri complessi eventualmente possono essere soluzioni coincidenti vi chiedo di riflettere su come trovare un modo per calcolare la somma delle due soluzioni ma senza risolvere l'equazione un piccolo suggerimento se la ricordate partite dalla formula risolutiva ma poi anziché utilizzarla trovate uno stratagemma per trovare direttamente la somma delle soluzioni se vuoi pensarci metti in pausa tra un istante cominciamo ok cominciamo qui in rosso ho scritto una generica equazione di secondo grado ax alla seconda più bx più c uguale a 0 e le soluzioni si calcolano con queste formule qua sotto quella che prima ho chiamato formula risolutiva la prima soluzione che ho chiamato x1 è uguale a meno b più la radice quadrata di b alla seconda meno 4c fratto 2a la seconda soluzione si calcola con la medesima formula ma la radice viene sottratta anziché sommata vedete qua c'è più e qua c'è meno ora se noi sommiamo le due soluzioni cioè se calcoliamo x1 più x2 dobbiamo sommare queste due frazioni che hanno lo stesso denominatore quindi lasciamo come denominatore 2a e sommiamo i numeratori quindi abbiamo meno b più la radice di b alla seconda meno 4ac e poi di nuovo meno b meno la stessa radice e quindi la somma delle due radici è uguale a 0 quindi rimane meno b meno b fratto 2a che fa meno 2b fratto 2a semplifichiamo ancora il 2 e abbiamo trovato che la somma delle soluzioni è uguale a meno b fratto a nel nostro esempio b è uguale a 5 mentre a è uguale a 3 e quindi la somma delle soluzioni è meno 5 terzi una piccola osservazione se lavoriamo nell'insieme dei numeri reali prima di concludere che la somma delle soluzioni è meno 5 terzi dobbiamo assicurarci che il discriminante cioè b alla seconda meno 4ac sia maggiore o uguale di 0 se invece lavoriamo nell'insieme dei numeri complessi queste soluzioni esistono sempre e i radicali si annullano in ogni caso anche se c'è un numero negativo sotto radice e quindi se lavoriamo nell'insieme dei numeri complessi la somma delle soluzioni è comunque sempre un numero reale perché mandando via la radice va anche via la parte immaginaria spero che questa curiosità matematica ti sia piaciuta nel prossimo video vediamo come trovare il prodotto delle soluzioni senza risolvere l'equazione ciao e grazie